Lo cercavano da tempo perché ormai erano settimane e settimane che svuotava le baite e le danneggiava. Rambo, come è stato soprannominato in Ossola, è stato preso stamani a 2000 metri sopra Monte Crestese. L'hanno arrestato i carabinieri e la guardia di finanza di Demodossola che da tempo erano sulle sue tracce. Si tratta di un rumeno di 21 anni che è stato sorpreso in una baita all'Alpe Mattogno nel comune di Monte Crestese dove da tempo ci si lamentava per i continui furti nelle baite. L'arresto è scattato con l'ausilio di un elicottero della sezione aerea della finanza di Varese. A permettere il fermo dell'uomo è stata la preziosa collaborazione dei cittadini, ormai esasperati per i furti negli alpeggi. Un residente della zona, binocolando sulla montagna, si è accorto che da una baita di Mattogno usciva del fumo. In sospettito si è segnalato il fatto alle forze dell'ordine che si sono messe in moto. Sono salite in quota assieme al proprietario della baita e qui si sono accorti che la porta d'ingresso era stata forzata e che all'interno c'era qualcuno. Il rumeno, vistosi scoperto, ha cercato di fuggire ma la sua fuga è durata poche decine di metri. Nel suo zaino i militari hanno trovato diversi oggetti da scasso ma anche un coltello e due vecchie pistole. Ora è in carcere a Verbagna per rapina impropria.